Chi sono i paparazzati di telenovela di questa settimana? Sergio Assisi e la compagna Gabriella Pession in uscita mondana. Si mormora che nella coppia ci sia un momento di crisi. Insieme a loro la regista Alina Wirtmüller che li ha fatti conoscere in un suo film. Sarà lì per fare da pacere? Altra paparazzata notturna. Bonolis e consorte al ristorante. Che atmosfera! I due non sembrano molto allegri. Una passeggiata a fine cena e in silenzio rigoroso prima di tornare a casa. Solo un'amica cerca di movimentare la serata scambiando due parole con Paolo. Poi, dritti a casa. Umore nero lavorativo o crisi in vista? Cos'è tutta questa folla? Chi stanno aspettando? Ma certo, Belen Rodriguez, regina di Sanremo senza corona, Belen è ritornata dopo il suo successo personale sul palcoscenico dell'Ariston alla solita vita frenetica. Come annunciato, avrà cambiato fidanzato? Ma certo che no! Ecco Fabrizio che cerca di contenere l'entusiasmo dei fan. Ci aspettiamo da lui almeno qualche rivelazione clamorosa? Niente da fare. Pare che abbia promesso a Belen di parlare il meno possibile per fare meno danni. Sì, ma quanto durerà?